Sanità oggi e domani al San Carlo di Potenza due sedute operatorie con il robo Leonardo da Vinci acquisito il mese scorso inaugurato il 3 gennaio dalla chirurgia urologica. Il protocollo di collaborazione con il regina Elena viene ora esteso anche all'oncologia ginecologica con l'equip del direttore del dipartimento della donna Sergio Schettini ad affiancare il primario di ginecologia oncologica del regina Elena Enricovizza in tre interventi.